Il tiglio, che è una delle piante selvatiche più antiche conosciute nella storia umana, è stato usato come pianta ausiliaria nell'eliminazione di molti problemi di salute fin dai tempi antichi. Il consumo più comune è sotto forma di tè. Questo tè, utilizzato a scopo terapeutico in diverse culture con le sue proprietà antibatteriche, previene l'insorgenza di molte malattie apportando incredibili benefici al nostro organismo se consumato nella giusta quantità la sera grazie all'alto pool di minerali che contiene. Quali sono i vantaggi del consumo regolare di tè al tiglio? Quanto e quando va consumato? Esaminiamolo insieme. Puoi iscriverti gratuitamente al nostro canale prima di passare ai vantaggi. Siamo qui con un nuovo video informativo ogni giorno. Quali sono i benefici del consumo serale di una tazza di tisana al tiglio non zuccherata? Questo tè è molto benefico per la salute del nostro fegato. Se usato senza zucchero, aiuta i tessuti del corpo a liberarsi delle tossine. Il fegato è un organo che rimuove le tossine dal corpo. Il tiglio supporta queste funzioni del fegato con le sue capacità. Inoltre, ha attività positive per la salute cardiovascolare con il suo alto contenuto di antiossidanti e flavonoidi. Regola la pressione sanguigna e bilancia la quantità di lipidi nel sangue insieme agli acidi benefici. Inoltre, la pianta del tiglio contiene una sostanza che induce il sonno chiamata apigenina. Questa sostanza antiossidante stimola l'attivazione dell'ormone melatonina secreto dalla ghiandola pineale, situata appena sotto il cervello, e favorisce il sonno in chi soffre di apnee notturne, insonnia cronica e difficoltà ad addormentarsi. Gli antiossidanti nel tiglio riducono anche i livelli di stress. Combatte soprattutto la depressione causata da bassi livelli di serotonina. La sostanza di triptofano che contiene migliora la qualità del flusso sanguigno al cervello. Questo combatte la depressione riducendo il rilascio dell'ormone cortisolo, che viene secreto in situazioni di ansia e panico. Una tazza di tisana al tiglio per un apparato digerente più sano. Le sue proprietà antibatteriche sono molto efficaci nel trattamento dei problemi di stomaco e intestinali. I composti in esso contenuti stimolano la produzione di bile, stimolano il metabolismo che lavora nel tratto digestivo e nutrono i batteri benefici nell'intestino. Questo effetto probiotico massimizza l'assunzione di nutrienti ed espelle tossine e agenti patogeni dannosi attraverso la digestione. I componenti che contiene sono buoni per molti problemi digestivi, in particolare la gastrite e le ulcere dello stomaco, riducendo l'acidità di stomaco. Inoltre, il tè al tiglio è molto importante per bilanciare la quantità di zucchero nel sangue. I composti funzionali in esso contenuti riducono il danno cellulare che si verifica quando la glicemia aumenta. Questo protegge il pancreas. Una tazza di tè al tiglio contro le malattie. Questo tè svolge un ruolo importante nella cura delle infiammazioni alla gola che si verificano nei processi in cui il sistema immunitario è basso. Le sostanze benefiche in esso contenute facilitano la respirazione e il mal di gola agendo come un antibiotico naturale. Supporta anche il tessuto corporeo per prevenire i danni causati dai radicali liberi. Questa pianta, ricca di antiossidanti, rafforza il sistema immunitario dell'organismo con polifenoli e vitamina C e crea uno scudo contro le malattie. Quindi, una pianta così benefica ha effetti collaterali? Innanzitutto il tiglio, che è un forte antinfiammatorio, può causare disturbi intestinali sovraccaricando l'apparato digerente se consumato in modo eccessivo e inconsapevole. D'altra parte, questo tè, che calma il corpo e migliora la qualità del sonno, può causare effetti collaterali come debolezza, pigrizia e affaticamento durante il giorno se consumato in eccesso. Allo stesso tempo, oggi l'estratto di tiglio viene utilizzato come materia prima per molti farmaci. In quanto tale, ha il potenziale per interagire con alcuni farmaci. Consulta il tuo medico prima di aggiungere il tiglio alla tua dieta. Soprattutto se ci sono farmaci che devi assumere in modo coerente e regolare. Quindi quanto tiglio dovrebbe essere consumato al giorno? Gli esperti consigliano di consumare una tazza di tiglio al giorno 2 a 3 giorni alla settimana. Soprattutto nei periodi di insonnia. Poiché non contiene caffeina, può essere facilmente consumato in determinati momenti della giornata. È molto importante consumare questo tè senza zucchero. E come per ogni cosa a base di erbe, fare una pausa per un po' dopo l'uso regolare è il modo più logico e benefico di utilizzo. Alla luce di queste tue informazioni, puoi aggiungere il tè al tiglio al tuo programma nutrizionale e beneficiare dei suoi benefici a lungo termine. Se ti piace il nostro video, non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti al nostro canale se non lo sai ancora.